A pochi giorni dall'impegnativa trasferta di Udine, il Catania di Diego Simeone continua a cercare di trovare l'assetto migliore per fermare l'incredibile cavalcata dei Friulani, che dopo il netto successo sul campo del Cagliari ha portato gli uomini di Guidolin al quarto posto, a soli nove punti dalla vetta. I rossazzurri avranno soprattutto l'ingrato compito di fermare l'attacco di pulci atomiche composto dal duo Sanchez di Natale. Ovviamente però Simeone non dovrà solo badare i due, ma avrà anche il compito di pensare a come bloccare i rifornimenti verso di loro, che spesso e volentieri partono dalle discese fulmine di Isla e d'Armero. Nel frattempo la truppa rossazzurra deve registrare il rientro in gruppo di Marianito Isco, fermo da più di due mesi, mentre svolgono ancora differenziato Biaggianti, Capuano, Potenza, Martigno e Sciacca. Sembra rientrato invece il piccolo problema fisico di Maxi Lopez, che domenica scorsa l'era lasciato il campo anzitempo zoppicando. Tutto quindi lascia pensare a due attaccanti con il numero 11 Etneo affiancato da Gonzalo Berghezio, che però in caso di unica punta sembra addirittura il leggero vantaggio sullo stesso Lopez, con Adrian Enricchiuti super confermato in veste di trequartista. Se in difesa poi pare tutto scontato a causa della squalifica di Alvarez che lancia Schelotto e Marchese sulle fasce, l'ultimo nodo da sciogliere sembra quello del terzo di centrocampo da accostare a Lodi e Carboni e che porterà Simeone a capire chi tra le desme Gomez in questo momento potrà dare più garanzie.